Ciao, amici miei! Che bello che siete qui! Io e Daisy volevamo leggere un libro. Daisy cerca la sua pecorella di peluche preferita, per poterla abbracciare mentre leggiamo. Ehi, questo polpo ha perso il controllo! Come facciamo ad arrivare alla porta? Un momento... Devo approfittarne! Disegnerò velocemente la scena! Il Luna Park! Trovate quelle tre porte e troverete il Luna Park! Purtroppo le costruzioni di carta non sono stabili. Ora voglio sapere, siete abbastanza abili? Eccola lì! Aprire tre porte, non una di più! Dietro la porta numero tre troverete ciò che cercate!